Non è fatto niente, è un genio. Sì, ma freni senza freni, senza tenere freni. Un genio. La città la metto l'ora. Non ti preoccupare. Dopo di che puoi andare dove vuoi. Grazie, arriva il caffè, chi vuole. Eccolo qua. Non mi prendi anche noi. No, no. Guarda, dietro. Chi è? Chi è? Io ho fatto basta, ma ho guardato la storia, perché gli ho scritto prima. Che spettacolo. Salutato. Non è lei che fa la storia. No, non ti senti più nella storia. E per forza il video. No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie. Allora, l'ario. Io voglio formare il cavallero. Mi è sempre piaciuto. No, ma di traverso. Ho capito che qui sono usciti, ma non me la faranno formare. Non credo. Lui mi aveva promesso che mi faceva provare quello. Promessa, ogni promessa è debito. Lui mi ha portato le tagliatelle. Mi non ha una pina. Ma il tau, che è quello? Quante? 45 all'ora. 120 km di autonomia. Erano tutte belle pulite. Erano tutte belle pulite. Secondo me, sarebbe arrivato un... Sarebbe giunto.